E' con vero piacere che torniamo ad ospitare la dottoressa Daniela Limonta, la nostra dietologa. Ciao Daniela. Ciao Katia. In una scorsa puntata abbiamo approfondito il tema delle intolleranze alimentari e ti sei soffermata sul glutine, il glutine appunto verso il quale molte persone hanno sviluppato una intolleranza. La malattia insomma è la celiachia, ne abbiamo già sentito parlare ovviamente molto, ne parlano in media ampiamente, ma cerchiamo di inquadrare che cos'è la celiachia. Allora la celiachia o malattia celiaca è un'infiammazione cronica dell'intestino dovuto all'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Che cos'è il glutine? È la frazione proteica di alcuni cereali, tra cui il grano, l'orzo, la segale e il camut. Quindi anche la farina di camut. Esatto, il camut non è altro che una varietà di grano, quindi come tale contiene il glutine. Come sono i sintomi della celiachia? Si manifesta normalmente con sintomi gastroenterici, quindi diarrea profusa, mal di pancia, coliche addominali, nel bambino ritardo della crescita, nell'adulto ci può essere un calo di peso, un dimagramento, ma si può anche manifestare con sintomi estrointestinali, come anemia ferrocarenziale, associazione con altre malattie autoimmuni e alcune dermatiti. Chi fa la diagnosi di malattia celiaca? Non l'autotest. Non l'autotest, non i test alternativi, la diagnosi di celiachia la fa il medico. Esiste proprio un protocollo per la diagnosi che prevede come primo step il dosaggio di determinati anticorpi nel sangue e quando questi risultano positivi la diagnosi deve essere confermata da una biopsia del duodeno. La mucosa duodenale del paziente affetto da malattia celiaca ha un aspetto caratteristico. I villi intestinali risultano appiattiti, quindi quando abbiamo la positività di questi anticorpi e una biopsia positiva si fa diagnosi di celiachia. Essendo una malattia che colpisce soggetti geneticamente predisposti, quando un familiare ha una celiachia viene ricercata poi anche negli altri familiari. Un tempo la celiachia era una malattia del bambino in crescita, che in fase di svezzamento aveva un'interruzione della crescita. Oggi esistono tanti casi di diagnosi in età adulta o anche nell'età anziana. I casi stanno aumentando e fortunatamente in Italia abbiamo un servizio sanitario che aiuta i pazienti erogando anche alimenti privi di glutine. Perché la terapia per un paziente affetto da celiachia è esclusivamente dietetica. Il paziente con celiachia deve eliminare per sempre il glutine dalla propria dieta. Se si pranza, si cena a casa evidentemente si può controllare in modo semplice. Basta non comprare cereali contenenti glutine. Cosa può mangiare in maniera libera un celiaco? La frutta, la verdura, il latte, i latticini, la carne, il pesce, le uova, i legumi. Tutti questi alimenti che non sono cereali sono tranquilli. Attenzione ai prodotti confezionati però. I prodotti invece freschi, naturali, se mangio una mela o qualsiasi frutto, non contiene glutine. Quindi sono tranquilla. Sui cereali dovrò andare a scegliere cereali che non contengono naturalmente il glutine. Il riso non contiene glutine. Il mais, la quinoa, l'amaranto, il miglio, il grano saraceno, quello dei nostri pizzoccheri. Loro sono cereali che naturalmente non contengono il glutine. Vanno invece esclusi i cereali con il glutine. Quindi il grano, il camot, l'orzo, la segale e il farro. Questi cereali devono essere eliminati. L'eliminazione del glutine della dieta per un celiaco non è una scelta, non è una moda, ma è l'unica terapia. Magari in un futuro, Katia, fra 10-20 anni avremo terapie diverse, terapie farmacologiche. Magari arriveremo anche al vaccino per la celiachia. Ma attualmente l'unica terapia è escludere il glutine della dieta. Dobbiamo escluderlo sia come ingrediente, ma dobbiamo stare attenti anche alle contaminazioni. Grazie alle nuove leggi sull'etichettatura alimentare, quando il glutine è presente in un alimento, deve comparire nell'etichetta nutrizionale. E deve anche comparire l'eventuale presenza di contaminazione. Quindi in alcuni alimenti, leggeremo nella tabella nutrizionale, contiene glutine, oppure può contenere tracce di glutine, che significa che non viene esclusa la contaminazione. Abbiamo detto, come dicevi tu, a casa è semplice, un po' più complicato è al ristorante, però bisogna avere l'accortezza di chiedere bene al cameriere, al proprietario, se la ricetta che vogliamo scegliere nel menu non contiene glutine. Esistono più di 4.000 ristoranti e pizzerie in Italia che hanno fatto dei corsi apposta e sono certificate nell'elargire piatti e ricette senza glutine. Quindi è fondamentale quando siamo fuori, siamo celiaci, appunto, dichiarare subito di avere questa patologia e in questo modo si possono evitare problemi anche importanti. Sui prodotti troviamo poi l'etichetta gluten free. Esatto, il nostro sistema sanitario eroga ai pazienti con diagnosi di celiachia questi prodotti in maniera gratuita. Esiste quindi un pane fatto apposta con farine agglutinate, agglutinate significa senza glutine, quindi un pane senza glutine, esistono i cracker, i grissini, le merendine per i bambini, le torte, esistono tanti prodotti senza glutine. Per un giro d'affari veramente milionario, ogni anno in Italia si spendono quasi 320 milioni di euro per prodotti senza glutine. Ma attenzione, questi prodotti in maniera incredibile non vengono comprati soltanto o comunque consumati da chia e celiachia. Ah, quindi c'è addirittura questa moda. Esatto. Un utente su tre compra prodotti gluten free senza glutine pur non avendo una diagnosi di celiachia. Perché? Perché è una moda, in dietologia vanno tanto le mode, mode del biologico, del vegano, del vegetariano, adesso va la moda del gluten free. In America si parla proprio gluten free mania ed è sponsorizzata delle volte proprio da attrici, da cantanti, pensiamo a Lady Gaga, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus, sono tutte dive americane che nei loro social, nelle loro pagine, dicono di seguire diete gluten free. Quindi hanno milioni di follower che le seguono anche in queste cose. Ma perché un soggetto decide di togliere il glutine? Molti lo fanno per dimagrire. C'è un'attrice americana che ha fatto proprio un libro Dimagrisci con la dieta gluten free. E in questo libro spiega che anziché mangiare il pane, bisogna comprare il pane senza glutine, anziché mangiare le merendine bisogna comprare quelle senza glutine per avere un risparmio calorico. È una stupidaggine. I prodotti senza glutine non hanno meno calorie dei prodotti con glutine. Quindi il pane senza glutine ha le stesse calorie o semmai di più del pane con glutine. Ma perché? Il glutine che cos'è? È una proteina che tiene coesa l'impasto. Io per spiegare ai pazienti che cos'è il glutine dico prendete della farina bianca, mettete l'acqua e impastate con le mani. Poi guardatevi le mani. Le vostre dita, quei pezzi appiccicosi. Quella colla è il glutine. Se io con la tecnologia alimentare tolgo il glutine dall'impasto, l'impasto non sta più insieme, non è più coeso. E allora cosa devo mettere come industria alimentare? I grassi. Quindi un prodotto senza glutine, in passato aveva molte più calorie, adesso sono migliorate molto le ditte che fanno prodotti senza glutine. Quindi possiamo dire che semmai le hanno le stesse calorie, ma di sicuro non c'è un risparmio calorico. Quindi seguire una moda, una mania del gluten free per dimagrire è la strada sbagliata. Ma c'è anche chi lo fa per motivi salutistici. Si pensa che il glutine possa far male. Non è mai stato provato scientificamente. Ovvio, l'eccesso di glutine fa male. Quindi se un soggetto mangia mezzo chilo di pane al giorno, duetti di pasta, pizza e focacette dalla mattina alla sera, è normale che se toglie per una settimana il glutine sta soggettivamente meglio. Ma è perché era l'eccesso che faceva male. Un consumo normale e moderato di glutine nel soggetto non celiaco non fa male. C'è stata recentemente la pubblicazione sul British Medical Journal, quindi una rivista scientifica molto autorevole, che ha seguito per 26 anni 110.000 pazienti, quindi un esercito di persone, e ha visto che chi seguiva una dieta senza glutine, pur non avendo una diagnosi di celiachia, non aveva nessun tipo di beneficio medico, né sul rischio cardiovascolare, né sul rischio tumorale. Non c'erano nessun tipo di beneficio. Anzi, può essere pericoloso. E perché può essere pericoloso? Innanzitutto per mancate diagnosi. Quando avevo detto all'inizio che la diagnosi si fa con la ricerca di determinati anticorpi nel sangue o con la biopsia del duodeno, queste metodiche devono essere fatte in soggetto che segue una dieta con glutine. Se il soggetto non ha già tolto il glutine, gli anticorpi si negativizzano, la biopsia risulta nella norma, quindi arriva ad una mancata di diagnosi. Magari ci sono persone che sono realmente celiache, ma avendo tolto da soli il glutine nella dieta, quando fanno questi esami, sono dei falsi negativi. Quindi mai fare queste cose. Le diete sono cose serie. Non ci si può auto-improvvisare dietologi o medici. Attenzione a togliere il glutine perché si fanno solo pasticci. Poi esistono anche altri studi che dicono che può far male perché se io tolgo il glutine, cosa tolgo? I cereali integrali. Quindi tolgo la fibra, tolgo la vitamina B. E quindi si possono avere delle carenze nutrizionali. Quindi oltre a non avere il beneficio, posso avere anche dei danni. Quindi non seguite queste mode, anche se le fa Lady Gaga, ma i l'isaurus, lasciamo le fare a loro. Noi seguiamo la dieta mediterranea, che è la dieta migliore al mondo, e continuiamo con la moderazione, che è la parola chiave della corretta alimentazione, a consumare il glutine, nelle giuste quantità e nelle giuste frequenze, se non abbiamo celiachia. quindi non seguiamo i consigli di Lady Gaga, ma quelli della dottoressa Limonta. Grazie Daniela, ci vediamo la prossima settimana.